Il Catanzaro, reduce dal pareggio contro la prima in classifica, si prepara alla trasferta in casa del Matera. I biancazzurri, dopo aver superato l'esame Cosenza, dovranno mantenere la scia di risultati positivi fino a fine campionato, per proseguire l'obiettivo play-off affrontando tutte le gare come finali. Fondamentali dunque tre punti. A rovinare però il bel momento è la decisione shock da parte della commissione disciplinare che ha squalificato padalino per quattro mesi per aver ricevuto soldi in nero dalla nocerina. Dunque il Matera perde l'allenatore nel rush finale di stagione che seguirà già il prossimo match della tribuna. In tutto questo clima però il Matera ha ripreso con le sedute di allenamento. Il tecnico de Gello Rossi invece avrà i soliti problemi di formazione nel reparto difensivo. Continua dunque l'allenamento a parte per patti ed è probabile che il suo recupero possa avvenire nella prossima settimana. Si scenderà in campo domenica alle 17.30. Arbitro e designato Emanuele Mancini della sezione di fermo. Da Catanzaro per la Cineus 24.